12 tornei under, 20 piazzamenti prestigiosi nei campionati a squadre ed una crescita complessiva del settore agonistico. Sono questi i riscontri super nel 2015 per il Tennis Club Livorno, che qualche ora fa nella Club House del Circo l'ha festeggiato l'annata con un evento fatto di premiazione e cena per gli atleti e i loro genitori. I dirigenti guidati dal presidente Conti hanno avuto l'occasione di fare il bilancio della stagione che si è conclusa in questi giorni e di guardare al prossimo anno con la caccia ad altri successi. Durante la serata c'è stato il saluto ai ragazzi che dalla scuola SAT sono stati inseriti nel settore dell'agonistica e agli atleti che già da tempo lavorano sotto la guida di Lucia Della Fazia e Marco Lepri per la parte tennistica e Alessandro Renai per la preparazione fisica. È stato dato il benvenuto alla new entry Ginevra De Federici, migliore under 10 in Toscana che da quest'anno vestirà i colori bianco-verdi e sono state sottolineate diverse prestazioni. Quella della squadra under 12 femminile con Alice Spagnoli, Sofia Bonsignori e Costanza Benini che ha conquistato l'accesso alle finali di Macro Area e quella dell'under 12 Giorgio Porrino per il miglior rendimento nell'individuale con ben 5 tornei vinti. Sottolineati poi il migliore esordio tra gli agonisti di Virginia Nesi, l'impegno e la crescita dell'under 16 Teresa Invernizzi, l'affiatamento e lo spirito della squadra under 16 maschile con Lupi Damiani e De Melas e le affermazioni dell'under 16 Silvia Salvetti che raggiungerà la classifica 3-3. Nella festa premia riconoscimento per tutti e 30 i ragazzi bianco-verdi in chiusura con lo spazio conviviale, guardando con fiducia al 2016.